Benvenuti in questo nuovo video, io sono Serkaoka e oggi vi prenderò una nuova serie Le battute pesanti sulle mamme in genere Ok, spero che questo video vi piaccia, buona visione Va bene, adesso li ho messi tutti qui dentro e adesso pescherò il primo Tua mamma è talmente troia che quando gioca a Ninja Fruit escono solo le banane Pesante raga Adesso pescato la seconda Tua mamma è come la Fanzi, se non la lecchi godi solo a metà